. 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 il professore di un cazzo mi ha fatto su un cunno il professore della mince al capo servizio ci hanno dato i soldi ci hanno dato il calo e ha detto che ci hanno dato una capicazza una capicazza ci hanno dato che capicazza e mi ha dato la madonna di capo che vuoi una vannera una madonna greca vannera di un cazzo e moglie non fa un cazzo cosa sa che è un cazzo? dove siete? dove siete? dove siete? pronto? come è? è mandate mandate chiamate un'affa l'ag va madonna greca chiamate un'affa sottotitoli